Ma in realtà non c'è un collegamento qua Quindi Andiamo a farcela a piedi Adesso fa 86 frame 90 Per me c'è qualcosa tipo memory leak Perché mi sembrava un po' strano le prestazioni E qua fa 75, 77, 82 Quindi Sicuramente ci sono delle cose ancora sistemate In questo gioco Andiamo a vedere qua E sa se magari c'era un finale diverso Se proprio non lo usavamo nemmeno Un girino che era uno Può darsi Spero di non aver compromesso qualcosa Non averli usati comunque Vabbè Tiriamo Salve Che c'è? Ah Naffa è Sono in combutta Cioè nel senso Eh Non c'è il clave per liberare gli Githi. Per la finalità del Reckoning. Una cosa più prima prima, però. Per la prima volta che il Nautiloid, il tuo mente è chiaro. È... ...non... Non era un'esplosione. Non era un'esplosione. Alcuna è scontata. Non ti senti? L'esplosione che hai nel tuo peccato, non si senti mai più. D'accordo, la storia di John West. come you're still on the road to ruin a road that leads directly to a confrontation with the elder brain best it will kill you and everyone else in this city at worst it will assimilate you and you won't have enough free will left to even wish you were dead you have the key to destroying it in the palm of your hand though the first strata I don't think we'll try it in a manner of speaking but it's the one inside the prison that's the elipid the gift I can give you the means to break him free speak devil we're listening I suppose you'd rather suck on the emperor tentacles till the end of your days Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an elipid to you you will be a friend after all ma te che ci guadagni poi ma sono tutte anime che vanno da te se vuoi non tutti siamo di nuovo sono stati abili nel metterci ultimamente in particolare in queste situazioni in cui sembra sono decisioni siamo decisioni veramente importanti no però se le stia lì a pensare diciamo ma poi va a finire il gioco se scelgo questo quest'altro ma allora questo non mi sembrerebbe proprio corretto cioè a noi ci ha attaccato le guardie di Orpheus è vero che come forse dice l'imperatore se non liberiamo Orpheus Orpheus non ci pensa due volte a ucciderci perché comunque abbiamo i i girini in testa no? quindi siamo già mezzi illitid però non è che sia nemico nel vero senso della parola cioè siamo nemico per quel motivo lì poi dice l'imperatore l'unica ragione per cui sono ancora in vita e sembrerebbe di sì in vita più che in vita che siamo ancora noi stessi no Orpheus è l'unica ragione che sei ancora ancora in vita e l'imperatore è abusi il giro per il suo e l'imperatore è abusi il giro per il suo endo e l'imperatore è lo stesso per te sei nulla più che il figlio di burton che lo trasporta a l'imperatore l'imperatore è un inglese e l'imperatore sarà un inglese a evoluzione e anche il giro per il suo endo e l'imperatore si è vero che Orpheus non potrebbe sostenere con te contro l'imperatore ma se lo rivede non cooperative il narratore è la voce della varian dello sceneggiatore ma queste queste sono uguali mi hai convinto dimmi come liberare come faccio libera provano semplicemente a chiederglielo sembra però non c'è ancora la domanda a te che tenere giova non è giusto e è ancora più conveniente che puoi darmi esattamente quello che voglio in return hm no Non mi chiede per farvi, ma mi chiede per salvare la sua mente. Mi chiede il crown che dominare l'Elderbrain. E tu, L'Azell of Calir, vuoi liberare l'Oscottene Prince, non? Non mi chiede nulla. Quindi è finito, non? Un crown per un caldo. L'Azell of Calir, a bargain of a lifetime, L'Azell of Calir. Power, ancient and full of wonder. I have craved it ever since the archwizard Casas created it, long centuries ago. And brought doom to the empire of Netheril. That was the great age of humanity. And Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh the screams, hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. And Casas was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any... Grazie per raccontarmelo. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator and his empire fell with him. Casas' folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world. And the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils. And that I could use that crown to unite the nine under one. Archdeven supreme me. A proposito, stamattina sono capitato su un post di Facebook in cui diceva che effettivamente Volo è un personaggio molto importante appunto nel, diciamo Firehound. Quelle che una volta erano chiamati Forgotten Realms, cioè Realmi Dimenticati, Realmi Dimenticati. Questo tizio dice che nella quinta edizione c'è quanto pare addirittura un intero libro manuale dedicato a lui. Sarà un libro probabilmente. Però non l'abbiamo visto per poco. Adesso vedremo se tornerà. L'idea è che tu possa governare, non mi riempie di gioia. Penso che saresti un fantastico arci diavolo. Cosa ti fa pensare che riusciresti a usare la corona quando Carson c'è riuscito? Perché non prendessi la corona quando cadde l'impero né Teresa? Prenderò la corona e sfrutterò io stesso il suo potere. Non lo so, qua dovete capire. Poi magari... No, perché mentre parlava io stavo già ipotizzando diverse cose, no? Perché l'ideale sarebbe quello che noi fregassimo tutti. Cioè, uccidessimo l'imperatore. Uccidessimo, comunque elimineremmo in un qualche modo il pericolo dell'imperatore costituito dall'imperatore, costituito da lui e costituito dal cervello. Quindi sarebbe interessante se si riuscisse a fare questa roba. Poi non so che fine faremo noi, questa non ho idea. Cioè, è vero che io non ho usato dei girini. È vero che recentemente ho deciso che non li voglio usare, visto quello che è successo con l'imperatore. Però, in realtà, i giri non ci abbiamo comunque. Qua, ultimamente, si sono viste diverse ipotesi, no? Potevamo diventare mezzi i mani flayer. Io non so. Mi ricordo che a suo tempo dicevano che ci sarebbe stato un sacco di finali diversi, ma io sono un po' scettico su questa cosa. Però, in questo momento... Io non sono morto! E non mi fallo. L'archivista, Mephistopheles, ha sbagliato il crown e lo sbagliato in uno di loro valsiasi. Perché non se l'ha usato? Perché è un archivista. ... 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 La casa dove c'è il teletraspondato ancora. C'è sentito però stavolta lui. Effettivamente. C'è sentito, non mi perdite. Hai pagato a Raffaele una visita? Voglio ascoltare tutto ciò. C'è stato un pozzo. Veni qui, non faccio un argomento. Voglio sapere, perché ti stavolta il bossa. più onestamente di chiunque altro, va vero era anche sincero lui però... lo stiamo fermando anche noi... e lui sapeva come... tu sei la clave... tu sempre è stato io non mi sembrava che sia un altruist ma ha guardato il basso no mondo, no souls e è difficile ricevere sull'Illithid si rendono terribili clienti vedremo vedremo sembra che sia una lingua d'oro c'è una luce dentro allora adesso... ci ha incaricato e troverò un modo per recuperare ci ha incaricato... che ci ha incaricato? per non sbagliare la città adesso troviamo qualche indizio oh, andiamo avanti qua qui non c'è niente... non si può saltare perché ci sono le rocce ehm... questi? abbiamo già parlato con questi, non mi ricordo se c'è un commerciante... frutti? vegetali? cosa posso farci a te? tutto qua se sei hungry sai dove mi trovare è bene guardando se potente per fare Oh, c'è l'infermiera, no? Qui? Cioè queste sono le casse di proprietà di chi dà il profugo? I got it. I'd love to chat, but I've got a suit to find. Who knew buying something so simple would take the bones of a day? You have got to check out Danthalon's Dancing Axe. Their leather work is amazing. Excuse me, we're discussing Steel Watcher Gyronetics, a topic beyond your understanding, I imagine. Are you a Steel Watcher fan too? If so, we're here to discuss their mechanics. My mate got thrown by a Steel Watcher. Lucky bugger! The trajectory was perfection! Capi di... C'è questo che è contento di vederci? Amante cosa? Yeah! You spoke to me! Nobody ever talks to me! You're fast, silly! I'm trying something out. My name's Narver. Adventure to be. Soon to be the best adventure anyone's ever seen. Soon as I figure out what kind of adventure I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Non me ne può fregare di meno. Proviamo questo. Prendiamo questo. puoi morire e finire a pezzi basta è stato a sei punti vita ma sentiamo la carmen qua la carmen la carmen la carmen la carmen la carmen non vuole bene la carmen 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 che cazzo vuol dire frutta matura frutta matura frutta matura cosa? melara qualsiasi cosa voglio dire? banana nera nera azzurra rosa pallido ok ok lasciamo fare allora prima mettere su questo questo qua era la lista figaro città bassa sarà su lettera di figaro azzurra ok Libro dei Yagi Ok, probabilmente sopra magari c'è... ma questo alla fine che cos'è? Un commesso? Che cosa sarebbe? Qua per esempio non c'è nessuno in questo momento, se io la prendo... Vabbè, presumo che non ci sia in realtà un... possibile della Juncher... Se ce la fai? No... Boh... Niente Figaro non è qui allora... No, che non è qui fuori... ma non sembra... ci sarebbe... No... perfetto... sentinele d'acciaio... finisce già qua... No, 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 no... No, 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 no...